Eccola Cosma! Eccola! Abbiamo scritto una pagina di storia, l'abbiamo tanto sognata, voluta, le tante difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare in questi due anni e mezzo, sicuramente da quando siamo partiti. Quindi quattro esordienti in due anni, una squadra giovanissima, un traguardo raggiunto forse anche più velocemente di quanto ci aspettassimo, però siamo veramente orgogliosi. Questa è la vostra colpa. L'altra volta non era stata così, diciamo, festeggiata. L'altra volta era un periodo un po' strano. Questa invece, sono contento che proprio gli italiani hanno capito l'importanza della cosa. Grazie. Grazie.